ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video un'altra puntatella dedicata alle vostre collezioni ai vostri orologi che diventano i protagonisti del canale e si lasciano ammirare da noi che stiamo guardando perché io li sto guardando sul dispositivo mobile digitale a batteria mentre voi li state guardando dal vostro altrettanto dispositivo mobile a batteria è per forza anche voi quindi poi dopo alla fine ci divertiamo tutti cercando di capire il perché per come delle vostre scelte no a volte rimaniamo estasiati dai vostri orologi a volte rimaniamo schifati anche se un termine un po forte dei vostri orologi però d'altronde voi li esponete e noi li guardiamo poi io do il mio il mio parere cioè voi mi chiedete il parere io ve lo do non è che vengo a casa vostra a dirvelo è siete voi che venite qua e mi chiedete cosa ne pensi e vi dico cosa ne penso se è brutto è brutto come partecipare lo sapete vedete qua in sovraimpressione tutti i dati necessari e faccio vedere l'orologio del giorno che è il mio bellissimo long in spirit con il quadrante blu diametro cassa 40 mm il calibro l l 8 8 8 certificato cost è un discendente della generazione dell'età 28 92 tutti i suoi piccoli cambiamenti spirale libera bla 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 mi piace resistente vediamo un po se qualcuno di voi oggi c'ha questo simpatico logine a volte saltano fuori anche gli orologi che c'ho io è logine spirit è uno di quelli più che vanno per la maggiore ma ciao davide sono stagia roma questo è il quinto video che ti invio quinto quindi sei assolutamente libero di denunciarmi per stalking quinto questa volta è la il video sarà incentrato sui colori dell'estate però è meglio ad essere più precisi colori dei miei orologi estivi bravo cominciamo subito va subito con questo color salmone con cinturina arancio del foibos poi abbiamo questo orient kamasu limited edition con colore rosso bordeaux scuro in torino rossa acceso acceso va bene da questo è il classico citizen proposta solumene con cinturino verde non giallo questo è un seco tarto serve the ocean è blu questo è il classico longinidro con queste con questo bel blu soleil questo invece il mido limited edition italia con questo bel azzurro italia è assai bello sì che bella che il zelos qui abbiamo uno zelos spurfish con questo bel giallo degradè bravo un altro orio un altro kamasu un altro orient kamasu verde petrolio un vostro che anfibbia neptune questo bel colore arancio pezzosina no albicocca un quarzon della timex crash 1972 dallo stile tipicamente retro 70 rosso questo invece una cinesata clamorosa un orologio preso su alie espresse recante non è il nome del brand ma il miei iniziali e il mio nomignolo little doc io sono un medico questo è un ultimo acquisto citizen suiosa con questo bel colore turchese ecco a proposito sono andato sul sito della citizen e non lo provo assolutamente trovato quindi mi chiedo questo colore forse era per il mercato giapponese o americano non so se no no c'è c'è questo colore qua c'è ma si trova addirittura adesso ce n'è uno azzurro così blu sempre degradè ma con il quadrante grain ruvido è che lei veramente opaco molto molto bello addirittura ora recentemente in questi giorni non ho visto uno che è completamente nero di metallo nero pvd sarà con il quadrante camouflage stile militare grigio nero c'è ormai una volta che un orologio ha successo come lo zuiosa che ha fatto successo che che se ne dica con poche con poche con meno 250 con 250 euro prendi un bello orologio fatto bene con bracciale integrato della citizen cosa vuoi fare di più quindi quando un orologio è successo poi dopo lo declinano in una marea di versioni no è logico comunque e si esiste io l'avevo già visto sai qualcosa in merito questo invece l'ultimo acquisto un altro orient mako questa volta bello con ghiera in acciaio 40 mm che come ti faccio vedere al difetto al 26 un minuto di avere l'indice è già centrato è già 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 questo è un problema che è nato subito se subito visto proprio tutti gli esemplari della prima serie hanno questo problema qua di avere il 26esimo minuto l'indice che è molto vicino al 25 piuttosto che al centro dove dovrebbe essere proprio un errore sistematico cioè tutti i quadranti e da quello che so orient l'importatore italiano le varie comunicazioni che hanno fatto e che porranno rimedio se uno l'ho acquistato e lo vuole dare indietro lo rimborsano addirittura in attesa che escano quelli nuovi che poi glielo rimandano quindi orient si è messa a disposizione sinceramente io sto aspettando che finiscano queste prime serie per poterlo prendere per testarlo per fare una recensione qualcosa però non lo so quando finiscono queste fine serie sui marketplace e continuano a esserci questi orologi della prima serie poi mi arriva a casa quello con il l'indice disassato e non sono contento però c'è anche da dire che uno come te che l'ha preso così lo può anche tenere ma c'è ma a un certo punto ma cosa me ne frega è una parte diventa anche una particolarità no fra fra dieci vent'anni no questi erano quelli della prima serie che avevano l'indice disassato è un difetto riconosciuto ma io l'ho tenuto così perché mi sta bene anche così che tanto non è che va inficiare la cronometria la lettura del tempo la bellezza dell'orologio cioè ci se ne accorge perché noi stiamo a guardare il decimo di millimetro no con la letra di ingrandimento te ne accorgi altrimenti chissà quanti altri orologici sono e non ci abbiamo mai fatto caso che hanno un indice un pochino messo così insomma sono cose che possono anche sfuggire questa magari non doveva sfuggire perché se è sistematica o anche se ne controlli uno ogni cento e quel è quel uno lì lo vedi che fermi tutti sto qua c'è l'indice storto o controlliamo i dieci prima e dieci dopo minchia tutti storti controlliamo gli altri tutti storti quindi te ne devi accorgere in fase di controllo di qualità però si vede che il controllo di qualità qua dicono il controllo di qualità l'utente finale se l'utente finale dice qualcosa allora lo riprendiamo gliele diamo un altro ci costa di meno che fare un controllo di qualità come si deve no clamoroso errore comunque insomma resta sempre un bel orologio magari questo difetto lo farà apprezzare ma gli estimatori magari si aumenterà anche il suo valore non credo no valore no però tienilo che ti frega ecco questa è la rapida carrellata poi ci sono gli orologi se quanti ce n'è un caro saluto e spero che lo pubblicherai ma si dai qui un abbraccione you are the best grazie grazie mille i colori il tema di questa di questa parte di collezione perché poi abbiamo visto che c'è una marea sopra altri è il colore no addirittura va a fare doppioni c'è due zellos c'è due orient camasu c'è vabbè uno con gli indici tondi uno con gli indici a barracuda proprio come si suol dire perché camasu vuol dire barracuda simpatico tutti i belli orologi nemmeno troppo entry level hai capito perché ci sono anche orologi che costano di meno che qua c'è una bella collezione di orologi colorati economici chiamiamoli così che ci stanno tutti belli li vorrei tutti tutti poi dopo cosa ci faccio non so però li vorrei boh promosso aspetto il sesto video così completi la tua stalkeragine prossimo ciao davide sono gianmaria complimenti per il canale sempre video interessanti e orologi che non tratta nessun altro youtuber anche oggi volevo farti vedere la mia collezione allora aspetta prima di farci vedere la tua collezione guardiamo cosa ci offre sul tavolo allora il libro di patek philippe è già ci dice che devi averci degli orologioni perché patek philippe è patek philippe poi il libro completo della porsche 911 che quindi ci dice che insieme a patek philippe vuol dire che c'hai gli sghei perché se no e poi la action figlia come si dice no in inglese il pupazzetto come lo chiamiamo di lemmy lemmy kilminster ossia il fondatore cantante e bassista dei motored io ai motored l'ho visti live almeno tre tre volte tre volte l'ho visto di cui l'ultima camminava il buon lemmy che riposo in pace camminava col bastone per cui era già lì lì che sarà l'ultimo concerto è quasi per me è stato l'ultimo va bene dai partiamo subito dai casio il primo che volevo farti vedere questo war timer carino carino ci devo fare tutto molto resistente mi piace che toro insomma mi sta molto bene quando siamo abbronzati secondo me ci sta la vicina parte è philippe secondo casio questo g shock secondo me un orologio fantastico se che sta benissimo sul polso lo uso quando faccio sport surf bicicletta sia di cosa indistruttibile veramente bello bello secondo me in condizioni in collezione ci sta no a me no io non lo voglio poi l'ultimo quarzo so che te non approvi questo omega first watch speed master mission to jupiter carini colori forse non vale i soldi però devo dire sfizioso e carino quando viaggi in posti che magari non si possono portare importanti questo va bene ma è giocato lo mettono abitilo vicino al burattino al pupazzetto dilemmi è uguale no cioè la riproduzione dilemmi in miniatura e la riproduzione dello speed master in miniatura due giocattoli quindi dai ci stava comunque un lancio che se ne è parlato molto quindi secondo noi bisogna provarlo passiamo poi ai meccanici anzi no un altro quarzo che volevo farti vedere perché poi tu presti molto c'è l'onjin questo l'onjin di mio padre fatto ora pensa neanche batteria molto piccolo molto vintage questa cassa particolare una forma che non so un po croce non riesco a capire ha cambiato il cinturino molto piccolo non so se tu hai idea di che modello sia no che lo trovo particolare era di mio padre quindi ovviamente sai che lo vorrei anche io coloro gioia la mia collezione meccanici il primo è questo seiko 5 devo dire molto bello molto bello anche questo costa pochissimo con fondello con movimento a vista seiko l'unico problema di questo loggio che quando non lo si porta per tanto tempo dopo non parte quindi diciamo rimane un po di carica però si si ferma subito quindi è un po difficile da portare devo dire questa cosa mi ha veramente un po deluso di questo seiko altrimenti devo dire che ha molto carino praticamente ti sta lamentando della riserva di carica insufficiente no in italiano è questo cioè quando te lo posi lui dovrebbe stare non mi ricordo quant'è del 7s 26 la riserva di carica almeno 35 40 ore giù di lì no approssimativamente deve mantenere la carica e dopo 35 ore te lo prendi lo indossi deve ancora essere funzionante te ti lamenti di questo la prima cosa da fare perché siccome non sentite tante no di amici del canale anche neofiti e non neofiti che si lamentano di una cosa e poi il primo a commettere l'errore è il proprietario cioè devi essere sicuro di quello che dici cioè deve aver fatto tutte le prove scientificamente parlando razionalmente parlando per poter dire questo è il problema la prima cosa che vi viene se è sicuro di averlo caricato al 100 per cento prima di posarlo come si fa a saperlo non lo so come si fa a saperlo perché questo qua 6s 7s 26 la carica manuale non ce l'ha quindi dovresti indossarlo così tanto tempo e così tanto in maniera attiva cioè muovendo il polso perché se testa il tuo giorno col polso così al computer non si carica l'orologio e non si carica mica e lì è non è che per osmosi muovi questa e lui si carica quindi devi essere sicuro al 100 per cento che l'orologio è carico al 100 per cento poi lo metti lì e controlli quanto regge la carica a quel punto puoi dire la riserva di carica è fallace non sta funzionando perché in questo modo qua non lo sappiamo se lo indossi un'ora poi lo poggi lì poi lo indossi un'ora poi lo lasci lì insomma devi essere sicuro poi poi un orologio indipendente che adoro questo è l'unimatic modello 1 una marca che ha fatto varie collaborazioni anche con odin key fondello stampato con serigrafia molto bello anche questo a movimento seco la ghiera anche si gira un po dura non è proprio diciamo un rolex però una marca bellissima fatta da ragazzi italiani che ti consiglio mari di riportare sul canale perché meritano un po grande però insomma essendo un diver mi sta ora essendo tempo grande essendo un diver ci sta ma c'è grande poi con questa grafica qua e spara e perché perché non sopporto la ghiera così liscia cioè non è che mi piace tanto diciamo la verità non c'è liscia nel senso che senza grafica cioè nude nude cruda easy minima non mi piace quadrante bianco dimensioni grandi sul polso spara in una maniera no c'è per me proprio no capito non mi piace proprio non è che dicessi forse col tempo mi può no non mi piace quindi sul canale ci vorrei portare cose che almeno un minimo un pochino mi piacciono no poi se c'è qualche punto debole è come è come tutti gli orologi qualche punto debole ci deve essere magari la dimensione magari quell'altra cosa magari il vetro minerale magari calibro di fornitura magari bracciale che non qualcosa c'è sempre ma se non mi piace proprio di partenza è inutile che lo porto cioè non ci metto nemmeno la passione l'enfasi nel fare una recensione di un orologio che non mi piace non ci riesco come faccio figo made in italy quindi assolutamente lo consiglio a tutti i membri del canale made in italy tanta roba vedere qui fanno parecchi modelli hanno fatto anche collaborazioni di prestigio per esempio con odin key o revolution watch ultimamente bravi 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 ora poi made in italy un legge made in italy dice ma come fa a essere made in italy se dentro c'è il seco nh35 no ma quello è logico io sono dell'idea che il made in italy andrebbe utilizzato anche in situazioni come queste è quasi è praticamente impossibile impossibile no è difficile anche a livello di costi incassare un calibro italiano perché ce n'è uno solo quindi il made in italy nel momento in cui un orologio è assemblato pensato prodotto e certe parti la maggior parte delle parti sono realizzate in italia per me il made in italy ha senso è giusto è corretto non è un un imbroglio non so se mi spiego non può esistere una cosa al cento per cento made in italy nel quale facciamo anche la vite da mettere no questa poi l'hanno fatta l'hanno fatta in corea no allora non è più made in italy e no e no cioè la maggior parte della produzione dell'assemblaggio del concept è italiano per me è made in italy poi abbiamo due orologi che ho preso quando sono andato in russia questo è un pateca del quale non so niente veramente ovviamente movimento manuale a carica e devo dire che adesso non parte ma di solito funziona funziona bene carino dress watch diciamo anche questo senso un impegno cassa blu carino dai niente carino però carino poi poi abbiamo questo orologio rusto del quale non so assolutamente niente e poi mi piaceva e sono due tipo a questo funzionamento tipo ore di del cremlino diciamo ovviamente è rotto e anche questa carica manuale è rotto un po stile militare niente di che no ho comprato una mia ragione russia diciamo carino non mi ricordo su venire poi abbiamo questo orologio che ho trovato di mio nonno orologio da taschino della lorenz anche di questo non so assolutamente niente ma carino però funziona carina la di mio nonno quindi diciamo lo tengo purtroppo non c'è nessuna incisione ganso bello bello mi piace promosso lorenz bello adesso facciamo un po spazio agli orologi nella mia collezione che sono più importanti partiamo le pulizie si vuole fare potrebbe nascere l'amore per gli orologi per me top day just con braccialetto oyster braccialetto devo dire l'orologio che mi ha regalato mia madre per la laurea al quadro molto affezionato non s'aprirlo ora che riesco non s'aprirlo aprirlo faccio vedere la particolarità di questo orologio che ha praticamente la data a roulette c'è nero posso nero bellissimo elegantissimoissimo veramente non mi stufano mai di questo orologio ovviamente ha un valore anche sentimentale certo benissimo al corso il 36 mamma mia c'è posto piccolo che io vogliamo dire una perfezione piccolo perché il 36 ci sta grosso abbiamo un altro rolex valla a pigliare di là e mi raccomando non preparatevi lì poster perpetua l'orologio che ho regalato a mia moglie ma ovviamente metto detto molto volentieri anche bel trucchetto è molto bello un classico devo dire sì mi piace molto poi vede al corrente della rolex quindi ci stanno ci sta tutto ci stanno tutti grandi queste 36 poi abbiamo un altro rolex dove oggi di prestigio di la lezione solo due marchi ma perché non ve li preparate qua ovviamente volete capire dallo sfondo abbiamo qui questo il dito una banda però preferendo appena discontinuata discontinuata bellissima dire assolutamente un classico penso rolex si è superata quando ha rilanciato la ghiera ceramica un orologio insomma spettacolare beh che adoro poi l'ultimo rolex anche quello più caro abbiamo questo submariner in oro bianco veramente massiccio oro bianco preferenza 1266 19 lb la chiaro è un'altra cosa oro bianco secondo me sta marina più bello oro bianco bello bello massiccio bello pesante tanta roba e oro bianco bello mi piace poi passiamo ora però comincio a capire perché c'è il libro della porsche di patek philippo ora ora siamo un pochino più nel tuo range e oro bianco dai tono e adesso sì che comincia a sfoggiare oggi pop della mia collezione cos'è qui abbiamo come avete capito il top della droggeria o per la 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 patek philippo calatra ma referenza 5 2 9 6 g 0 17 ce ne sono solo 50 al mondo perché questa è una referenza fatta per l'anniversario di patek philippo una gioielleria storica haussmann a roma 1974 a 2 mila non si legge bene ma siamo a parlare di un 50 mila di orroggio quindi anniversario importante movimento fantastico un orroggio che è veramente perfetto diciamo adesso faccio perfetto numeri romani guarda anche se c'è i numeri romani al 12 io lo voglio lo prenderei volentieri guarda poi uno c'era solo uno il 12 lassù poverino da solo isolato non mi dà nemmeno fastidio lo prenderei volentieri questo orologino 40 3 40 e 50 mila euro costa e non non è che perché ovviamente si parla di roma e quindi a roma non ci stava bravo last but not least quello che è stato il mio grey watch cosa sempre che finalmente sono riuscito ad acquistare giuda questo fantastico acquanaut 5 1 6 4 a 0 0 1 e vabbè un orroggio per me sportivo più bello che c'è con la complicazione travel time stato viveggio parecchio che si attiva in questo tipo uscire fantastica data indicazione del giorno e della notte che qui fondello a vista alla ciatura de bruyant veramente veramente bellissimo comodissimo ecco questa la mia collezione spero che sia piaciuta vabbè rock peace and love ciao rock peace and love e ciao poveri ci stava ciao poveri allora la collezione cosa ti posso dire ha iniziato con una prima parte che era abbastanza scrausa cioè che quasi quasi dice gli orologi presi come souvenir lo swatch fatto a speed master quel giocattolino lì insomma dopo dalla metà in poi si è passato ai pezzoni a parte un po troppi rolex per i miei gusti però ai pezzoni su mariner in oro bianco e piace mi piace lo vorrei proprio veramente chissà quanto pesa loro bianco e poi patek filippo soprattutto calatrava lì più e più acqua nauta un po meno cioè non compri io non lo comprerei mai l'acqua non mi piace proprio come non mi piace nemmeno nautilus ora magari dico una boiata per qualcuno ma nautilus e acqua nauta non mi piace e calatrava lì invece così bello elegante lo vorrei volentieri costa un 50 mila euro megoglioni però promosso da promosso 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 se nove minuti di video lo pubblichiamo perché va visto da ciao davidi complimenti per il canale fermi tutti complimenti per il canale ci fermiamo e guardiamo un'occhiata a cosa ci offre come sfondo questo secondo questo terzo amico qua il terzo video allo e qui qua c'erano vado matto per il queen praticamente perché c'è le copertine qua di queen queen quello con l'occhio lì non lo so non è non è abbastanza pink floyd questo di qua sono i pink floyd perché dovete sapere che a me se non c'è la chitarra distorta e la doppia gran cassa secondo me non è musica capito doppia gran cassa chitarra distorta e battiti per minuto abbastanza elevati questa è la musica poi dopo quando si va sul pochino così no i queen già un po troppo leggerino andiamo avanti ti faccio vedere la mia collezione piccola ed economica collezione di orologi ma always work in progress parto con due orologi di mia moglie poi ti faccio vedere i miei questo ombula va a batteria al quarzo è invece bello e però è bello mi piace la surveyor come si chiama cassa molto bella purtroppo al quarzo ma è uguale se c'è da prendere un quarzetto va bene questo qua molto usato quindi testato così deve essere promosso quarzo un citizen ecodrive quadrante madreperla elegante non ho mai visto un ecodrive così piccolino cioè nella mia testa abbaccata ecodrive significa che avere un bel quadrante che prende tanta luce è più efficace efficiente è più efficiente il sistema no piccolini non c'ho mai ragionato sopra e ora ne vedo uno così piccolo ecodrive significa che quel quadrante lì è quello che deve prendere poi la luce solare per alimentare l'orologio sarà sufficiente evidentemente si è per l'amor del cielo dietro zaffero questo molto usato bracciale bellissimo normale bello bello il bracciale bello bello basta elegante elegante ti faccio vedere i miei vai parto con uno swatch regalato mi per la comunione massacrato cinturino originale come vedi massacrato usato per laurea all'esterno verniciature cose varie è un rutto va bene uno dice l'orologio da battaglia la battaglia no a batteria e va bene no cavoli ma ridurlo così ce ne vuole cioè vuol dire proprio non avere nemmeno un minimo di rispetto anche per questi orologini qua oggi ci vuole rispetto no anche se sono a batteria se sono da battaglia è un minimo no vabbè si sporca va bene ma dopo la pulitina gliela dai no e non è che siccome da battaglia deve morire per forza cioè alluminio non anni 90 da lì ogni tanto la mancetta dei secondi si blocca poi riparte insomma ha subito comunque ha subito ha lavorato ha lavorato nulla da dire dopodiché questo lowell che strizza molto l'occhio a rolex credo regalato da mia moglie se avessi dovuto comprarlo io non l'avrei comprato probabilmente ma ebbè un regalo al quarzo è questo abbastanza più economico però mettono l'apprezzato per quello che tanto mettono dopo di abbiamo questo ecco drive citizen crono pivoti avvietor avvieto trattamento ip economico mi piaceva però questo piaceva per una cambiare fibbietta rotta ayai ai 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 però però leggibile leggibile si lo tengo bravo anche perché il cazzo è uguale allora mi è venuto in mente che ce l'avevo anch'io uno un avietro così diciamo come sobraccia le shark ci avevo messo ed era un bel 45 probabilmente che quelle 45 c'aveva un problema che mi rimaneva fermo io ogni tanto guardavo l'ora diciamo si è fermato perché perché quando mettevo le mani in tasca ad estrarle si agganciava la corona di carica si estraeva e mi bloccava l'orologio quindi qual era il problema probabilmente era troppo tenera il fatto di estrarla estrazione no non opponeva abbastanza resistenza in un minimo momento in cui si va ad agganciare da qualche parte si estraeva quindi lo trovo fermo più 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 volte più volte poi questo promaster ecodrive vedi promaster automatico ecodrive sono diverse le casse non sono uguali si somiglia solo la la ghiera girevole per il resto sono abbastanza diversi comunque anche le sfere anche gli indici cioè sono uguali dai mi ha capito dai bello l'orologio il quadrante mi piace molto bracciale cambiato con uno morellato questo morellato credo sì bravo un pochino più morbido water resistant mi ha capito originale rigido un cauccio quindi non poi lo vedo più una cosa più estiva vai andiamo avanti origine il suo insomma bello il dettaglio della corona dai con il logo bellissimo mi piace economico ma bello poi promasterone full lume c'ho anch'io ce l'ho venduto nulla da da presentare insomma sai cosa è quindi bracciale economico sì vero bellissimo full lume comunque vuoi farti notare che il non si vede il quadrante è marchiato 8203 il movimento ma in realtà il fondello il movimento è segnato un 80 204 quindi probabilmente si tiziano avrà avuto di quadranti da smaltire ma ma si funziona così non è che stanno ci stanno tanto a far caso soprattutto su questi orologi qua entry level no fondelli casse quadranti poi il calibro è sempre quello è più o meno cioè cambia o il fermo macchina o altre cose piccole piccolezze calibro sempre le serie 8000 no quelle cose lì non ce ne frega niente è bellissimo così dai andiamo avanti bello per ultimo al momento per ultimo abbiamo questo bulowa aerojet remake degli orologi degli anni sessanta che bulowa dava panam per quello che ne so io questo 82 s 0 movimento miota credo con della vista lo trovo elegante comunque però molto elegante come lo voglio cassa credo sia 40 41 ma bello ma questo una bella casa insomma insomma e niente e niente dai grazie ancora lì al canale continua così a presto a presto ciao 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 insomma dai fra un po non se ne salva uno diciamo la verità c'è il promasterino poi gli altri tra ecodrive poi quello distrutto questo bulowa qua che ti dici che elegante ma c'è un profilo cassa che è veramente un muro poi a cuore aperto per farmi vedere il bulowa il miota 82 s 0 che altri non è che il calibro 8000 nella versione quella scheletrata cioè da mostrare al pubblico è un pochino differente nel senso un po più lavorato a pene di segugio però è un po più lavorato dai non sono solo cosa dirti una collezione che mi lascia un po interdetto nel senso che non c'è niente di di particolarmente interessante e dire che puoi tornare a settembre sei rimandato a settembre ciao sono samuele ciao tanto complimenti per il canale grazie vengo da milano ma da sette anni abito ormai a budapest in ungheria Budapest però e volevo farvi vedere la mia modesta collezioncina di orologi dai parto col primo che è un regalo da parte mia moglie per l'universale di matrimonio è il citizen promaster che tutti conosciamo certo è invincibile, indistruttibile niente da dire niente da dire niente da dire secondo me è un ottimo orologio automatico il prossimo è un Vostok Amphibia un po' particolare ho voluto prenderne uno direttamente alla fabbrica di Meranom ovviamente è grande importante come dimensione non ha la data visto che manca ovviamente la rimessa rapida quindi ho bravo evitarla completamente con un cinturino suo Vostok a maglia a rete di squalo come lo chiamano è carino funziona abbastanza bene è super impermeabile ovviamente super resistente ovviamente il vetro in plexiglass quindi bastare una grattatina e torna nuovo poi abbiamo un altro Amphibia credo sia un mezzo Frank Watch io ho cambiato la ghiera con una Pepsi sempre della Vostok e dalla fabbrica un cinturino nato stile finto 007 è molto carino resistentissimo funziona meglio di quello nuovo nonostante sia vecchiotto il movimento e questo invece meccanico manuale il prossimo è un semplice Orient che ho trovato un mercatino mai visto ho qualche vago dubbio sull'originalità del quadrante però il movimento automatico il suo coevo corretto funziona molto bene anche le varie rimesse del giorno della data e tutto quanto è un caruccio insomma non lo so io sinceramente non ho mai visto quell'orologio lì poi se temono presenti partendo già dal dubbio del quadrante a me mi viene il dubbio di tutto l'orologio nel senso che il suo movimento dietro c'è ma potrebbe essere anche una crocchina non lo so me l'ha messo te il dubbio perché io non ho idea poi veniamo Citizen sono appassionato di Citizen bravo questo è uno dei Seven Eagle è caruccio con questo cinturino Citizen Jubilee è molto semplice purtroppo lo scambiano per un Rolex a volte da lontano quindi il getto di guarda però chiaramente non è un Rolex funziona benissimo è affidabile è automatico ovviamente al solito Mi8 8200 yes poi abbiamo un Seiko a cui ho cambiato il cinturino questo ora mi sfugge il modello ma è molto simpatico ha le caratteristiche scritte arancioni sul rotore è un automatico alla rimessa un po' ambigua della data che viene tramite tramite il pulsante qua sul lato è carino simpatico è un po' particolare un secco 5 fatto così è tanta credo poi un Romer Seerock mi è stato regalato da mio cognato che era del padre ovviamente gli ho cambiato il cinturino con un po' più non distrutto anche lui è automatico è bella questa storia qua perché te l'hanno regalato che era del padre quindi hai praticamente la sicurezza che la provenienza sia genuina nel senso sappiamo tutti che con gli orologi vintage non si va ma dove si va a pescare un quadrante un movimento re incassato questo fatto là su giù te lo costruiscono un pacchetto intanto sei una sega di come erano fatti quelli degli anni 60 50 dici che bello questo vintage e te lo porti a casa quando c'è una storia dietro di questo tipo abbiamo hai almeno la sicurezza che sia genuino no? che l'abbia o la fregatura è dietro l'angolo magari il babbo del parente lì l'aveva fregato però è già qualcosina funziona abbastanza bene abbastanza preciso nonostante l'età è un classico anni 70 anche lui credo si cassa cuscinone caruccio poi abbiamo per la tua gioia qualche vintage questo è uno xaros watch che viene da questa azienda che probabilmente conosci di Milano fondata da un signore che è andato all'accademia di orologeria in Svizzera dopo di morezzi fondatore di oisa che ha aperto la sua attività in corso como credo all'inizio del novecento prima metà del novecento e ha cominciato a fare orologi ho dei dubbi sulle lancette però ho visto online altri modelli sempre loro con queste lancette che sembrano molto moderne quindi potrebbe anche essere valido funzionava benissimo meccanico ovviamente e il movimento è suo fatto da questo signore italiano di cui ora mi sfogge il nome signore italiano stai liquidando un po' tutto perché è una storia interessante che sta continuando ai giorni nostri oisa oisa no è l'unica fabbrica italiana che realizzava calibri no poi hanno smesso negli anni settanta hanno smesso e il nipote del fondatore attualmente ha ripreso l'attività e sta costruendo i calibri made in italy oisa manuali belli rifiniti di pregio a quei tempi lì oisa stessa vendeva i calibri a diversi marchi c'è proprio un elenco che se ti metti a cercarlo su internet lo trovi tra cui anche xeros ora non so se xeros fosse proprio un marchio realizzato depositato da oisa o fosse uno dei fornitori sì xeros dovrebbe essere quello di oisa ce ne erano altri due tre quattro poi lo vendeva certe marchi turchi praticamente cosa succedeva che se qualcuno vuole cercare un orologio con dentro un oisa deve fare sui veicoli a ricerca lì per nome di quel marchio lì e magari ne trova qualcuno a buon prezzo però ai suoi tempi negli anni cinquanta quando era non è che erano calibri di pregio erano calibri diciamo abbastanza muletti abbastanza da uso e consumo non è che dobbiamo romanzare poi più di tanto intorno quelli di oggi sono veramente di pregio invece bello bravo bello orologio poi la corona sicuramente non è la sua cioè è dorata l'ho trovato spacciato qua in Ungheria come orologio svizzero l'ho visto ho capito cosa che qualcosa non quadrava ho fatto qualche ricerca e ho trovato che in realtà era un orologio milanese come me per cui non potevano prenderlo alla modica di 30 euro qua abbiamo un amida francese niente di particolare se non fosse per la lo spessore vengo io vengo io purtroppo gli ho dovuto prendere cinturini hanno preso uno qualsiasi e come vedi è sottilissimo però è un 36 cm se non ricordo male e sta molto bene a polso secondo me 36 mm va bene siamo al prossimo eh certo sempre in area vintage Marvin svizzero bellino una storia simpatica diciamo che ho comprato questo e il suo gemello più piccino da credo 34 mm per mia moglie per un anniversario di matrimonio bravo e quindi abbiamo l'oraggio uguale praticamente funziona molto bene revisionato ho preso da un bel negozio orologi qua in centro budapest è un ragazzo giovane che è appassionato è in stato fantastico sia il movimento che il vestiti ora la lancetta rossa dei secondi non so mica se usava negli orologi vintage mi sembra abbastanza strana mi sembra una messa lì in più così sopra vabbè come si vede un pochino di bianco intorno ai numeri arabi no come se fosse ristampato il quadrante la corona ma vabbè si è fatto bene comunque che esterno il prossimo invece è un ex acto che dovrebbe essere un micro brand svizzero che poi è andato credo a morire e mi piaceva molto quadrante con questa sua patina color salmone e niente che non sia molto carino e lo stato matrimonio l'ho avuto addosso per due giorni e ha tenuto il tempo perfettamente bene sia credo degli anni 50 ecco qui ad esempio il quadrante si vede che ha fatto la patina che quindi ha preso colore no e intorno ai numeri arabi è rimasto chiaro un segno di un viraggio di un tipo di che nulla che vedere con quello di prima che era tutto bianco con addirittura intorno ai numeri arabi è rimasto chiaro un segno di un viraggio di un tipo di che nulla che vedere con quello di prima che era tutto bianco con addirittura intorno ai numeri quindi il bianco capito? questo qua da più l'idea di essere originale per finire abbiamo un bel quarzo un so che ti piacciono molto è rovinato tutto non sono amante di G-Shock ma ho visto che ne era uscito uno adatto a un polso abbastanza piccino come il mio per cui ho deciso di prenderlo come l'orologio è assolutamente una chiave che è inutile perché è illegibile in qualsiasi condizione però è obiettivamente molto bello secondo me lo uso in moto o quando vado nei negozi di bricolage a comprare legname e altra roba e non me ne frega niente dell'orologio cioè lo uso quando vado nei negozi di bricolage a comprare legname cioè solamente in questa precisa situazione se vai nel negozio di bricolage a comprare il trapano no ma se vai a comprare legname sì se vai in farmacia no se vai nel negozio di bricolage sì proprio veramente siamo alla pazzia qua poi in moto cioè dice una chiave che non si legge in moto quando avresti proprio bisogno del colpo d'occhio per vedere che ore sono che ore sono? Tung contro la macchina perché non lo leggere mai che ore sono proprio una zeccata eh per finire ho due orologi una ciofeca alert olè e tu direi che è una ciofeca ma in realtà questo orologino della foreseining foreseining cinese mi è costato la bellezza di 34 euro ho spedito e è precisissimo ho sentito online gente che si lamentava dopo due settimane si è rotta non va più non ha schifo il mio è perfetto ciò da due anni non l'ho messo per un bel po' di tempo per motivi che puoi immaginare soprattutto in giro però poi l'ho ripreso gli ho preso questo simpatico cinturino strano in pelle bucarellato bucarellato comodissimo è leggerissimo e va da dio ed è fantastico è fantastico con le mie figlie mi piace mi piace molto guardare il movimento è ipnotizzante è veramente molto preciso però è strano il movimento tiene il tempo una riserva decente almeno due giorni pieni ma sto qua vuole essere la vuole scimiotare il golden bridge del quorum credo penso così realizzato tutto su un'unica su un'unica linea non so non conosco questa cinesata qua però è anche carina come idea o no boh per cui è una ciofeca che secondo me vale la pena di avere perché è unico a modo suo con questo ponte con tutto quanto ovviamente non ha la sfera dei secondi per cui ha risparmiato un po' di spazio per finire per finire mezz'ora che dici per finire ho un articolo strano è questo orologio che è un seico solo dentro il quadrante non è originale nel senso che l'ho preso dalla cina ho acquistato tutti i componenti dalla cina e l'ho composto da me il movimento è allora se hai comprato tutti i componenti dalla cina e hai realizzato un orologio falso perché il momento in cui c'è il marchio sul quadrante con scritto seico è falso lascia perdere no non ci sono tutte quelle conseguenze di aver acquistato un orologio falso perché te lo sei costruito ma è concettualmente che non ha senso cioè uno un orologio lo prende perché gli deve dare un minimo di emozione non voglio essere esageratamente romantico no ma perlomeno perché esce dalla fabbrica così l'hanno fatto così e io me lo metto così se comincio a comprare i pezzi fake a destra a sinistra e mi costruisco una cosa che non esiste che non è mai esistita che senso ha se non per il piacere di guardare una cosa estetica ma dovremmo andare oltre queste cose noi appassionati no poi ci ha messo la ghiera fake anche quella lì del rolex e non mi ricordo più come si chiama quel rolex lì abbiamo capito yacht master un seiko marchiato TMI che da quello che so io è uno dei produttori di movimenti per seiko a cui ho applicato questo stupidissimo adesivo con questo motivo hard deco con le ondine azzurra molto tipico del giappone funziona perfettamente e credo l'orologio più preciso che ho in casa ho abbinato questo quadrante con delle ondine a rilievo le manine con lo squalo che gira in tondo questa cassa che è un ibrido tra un Captain Willard e un questo bezel stile Rolex e soprattutto ho fatto arrivare da via tram questo cinturino in pelle di razza Stingray secondo me è fantastico sta benissimo visti i colori l'ho fatto per l'estate l'ho fatto perché volevo un orologio che fosse come lo volevo io perché come sappiamo bene è quasi impossibile trovare un orologio che ci piaccia in tutto cinturino ghiera quadrante mani case corona è quasi impossibile quindi l'unico modo che ho trovato era di farmelo da me purtroppo il quadrante è arrivato marchiato seco non ho intenzione di venderlo quindi non è un falso il cuore pulsante è un movimento seco quindi da un certo punto di vista possiamo dire che sia un seco ma non mi sembra di far niente di male chiaramente un domani potremmo cambiare il quadrante se lo troverò senza il logo e magari metterci un logo mio vabbè spero che il mio collezione ti sia piaciuta grazie ancora per il tuo canale e ciao grazie a te ciao non stai facendo niente di male per l'amor del cielo qua si fa un po' per ragionare non è che voglio caricarti di responsabilità gigantesca è come se il mondo fosse sulle tue spalle e come ti sposti crolla no semplicemente a livello concettuale è una crocchion è una crocchion è una crocchion che poi uno dice me lo faccio come mi piace a me e se ti piacciono fatti così se ammessi male no ora una battutina lasciamela vabbè però poi adesso guarda sono meglio che tutti quegli altri vinteggini che ti sei andato a cercare a comprare fare la collezioncina piano piano che un accrocchion di questo tipo poi capisco anche l'interesse dell'assemblarselo da soli potrebbe essere anche uno stimolo interessante me lo monto da solo lo capisco però non capisco l'accrocchion va bene mi sembra di aver detto tutto dai vi ringrazio per essere arrivati qua e non so più cosa dire vi ricordo solamente che gli appuntamenti fissi sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love a a a Grazie a tutti.